Il nostro spettacolo musicale veste ogni evento, è adatto ad ogni piazza ed è per tutte le età. Ci piace raccontarvelo così. Benvenuti. Shari Band, il tributo ufficiale italiano alla Disco Music, presenta Showreel 2015. L'avventura nel mondo della Disco Music, con l'aiuto del nostro pubblico, inizia da quella luccicantissima degli anni Settanta. Sui nostri schermi, le immagini dei video originari in perfetto sincrono, la grande energia, i cambi d'abito e le coreografie sono i nostri punti di forza. Ed anche negli anni Settanta, nella nostra mitica Italia, ricca del suo re e delle sue regine. Ed ecco che la nostra avventura continua, nell'incredibile mondo degli anni Ottanta. Ancora i colori e le luccicantissime note della Disco Music anni Ottanta. La nostra avventura prende il volo. Ladies and gentlemen, ecco il grande mondo della Disco Music anni Novanta. Dopo questa botta di energia, non possiamo che tuffarci nella classe dell'incredibile mondo della Disco Music anni 2000. La Disco Music attuale è protagonista in tutte le radio, in tutte le tv, in tutti i social. Benvenuti nel mondo del mondo 2015. Non siamo solo questo, raccontiamo dagli anni Cinquanta ad oggi tutto ciò che può far ballare, tutto ciò che può far divertire e cantare. E' il mondo della Disco Music. Scegliete Shari Band, il tributo ufficiale italiano a Disco Music. Ed il meglio deve ancora venire. Scegliete Cudi Non Sono Kurt等ged presidente Scegliete Marino Dio